Il Brasile è stato violento, ma molto meno violento di tutti gli altri paesi, in comparazione con gli altri paesi è molto più pacifico, in Brasile esistono più di 40 etnie che convivono abbastanza pacificamente, in America ci sono le chiese per i bianchi e le chiese per i neri, in Brasile non sarebbe possibile, contro l'America c'è stato l'attentato delle due torri, di Bin Laden, non ci potrebbe mai essere un attentato di Bin Laden contro il Brasile, il Brasile è accettato nel mondo come un paese prevalentemente pacifico e portatore di pace e ora anche portatore di democrazia, perché il Brasile è una democrazia compiuta.